Buona giornata e ben ritornati negli studi di Teleradio Pace in questa seconda edizione del Tg Rassegna Stamp di oggi 3 di agosto. Siamo arrivati già nella seconda metà di questa settimana che è stata un po' a cavallo tra i due mesi, quello di luglio e di agosto e siamo arrivati proprio nel periodo migliore dell'estate però con una situazione veramente un po' particolare. Cioè proprio in questi primi giorni di agosto arriva una perturbazione piuttosto intensa sull'Italia che farà sentire i suoi effetti da nord a sud, quindi attraverserà praticamente tutto lo stivale e inizierà soprattutto nella notte tra oggi e domani e poi dal nord passerà al centro e fine al sud. Comunque entro domenica questa perturbazione avrà lasciato l'Italia. Oggi abbiamo un antipasso sulla nostra regione, la Liguria, con già delle precipitazioni in alcune zone, in particolare dall'est, dal promontorio di Portofino verso la Spezia. Qui è la maggiore intensità delle nuvole e anche qualche precipitazione che ha comunque bagnato, ma insomma un po' così, anche poco, poco, qualche goccia di pioggia anche la riviera, ma in particolare gli entroterra. In realtà, lo diciamo subito, questa lo abbiamo già detto anche nella prima edizione, questa perturbazione, lo possiamo dire abbastanza con tranquillità quest'oggi, aspettavamo le ultime informazioni, le ultime precisioni, in realtà la Liguria non verrà proprio colpita in pieno da questa perturbazione. Sarà un interessamento un po' marginale, soprattutto avremo dei temporali che si svilupperanno nelle zone interne al confine col Piemonte, quindi parliamo soprattutto delle Alpi Liguri, delle Alpi Marittime, della zona della Val Bormida, del Savonese, insomma fino ad arrivare all'entroterra di Genova, ma in realtà il peggio della perturbazione si farà vedere nelle regioni dell'est, del nord-est, quindi parliamo di Triveneto e in particolare questa volta dovrebbe essere il più colpito il Friuli-Venezia-Giulia. Poi la perturbazione passerà anche al centro-sud, quello che porterà sicuramente è un po' di refrigerio alle regioni di centro-sud che in queste settimane sono state ancora interessate da temperature molto elevate, mentre qua al nord avevamo già avuto un po' un abbassamento, un livellamento delle temperature, anche se poi comunque ha fatto caldo anche in questi ultimi giorni, però in maniera decisamente più tranquilla rispetto a 15-20 giorni fa. Allora andiamo a vedere le temperature della notte, così diamo una chiusura a questo inizio dedicato al meteo, abbiamo avuto i 13,3 gradi a Prato della Cipolla e i 15,9 a Rocca Davido, quindi qua le temperature non sono scese assolutamente. I 19,7 a Rezzoaglio basso addirittura, quindi temperatura molto elevata per Rezzoaglio perché la minima a 19 gradi, io veramente non me la ricordo da un po' di tempo, è a 18 gradi a Cabanne. Ricordiamo che in queste zone invece spesso abbiamo temperature sotto i 10 gradi, quindi evidentemente la copertura nuvolosa della notte ha portato all'innalzamento di temperature, soprattutto in quota, perché poi vedremo che sulla costa non sono state temperature decisamente più elevate rispetto a quelle degli ultimi giorni. 19,9 a Belpiano e invece 20,8 a Pontori, 21,1 a Favale di Malvaro e 21,2 a Pian dei Preti e ancora 22,3 a Pezzonasca. Queste sì che sono delle minime un po' elevate, perché proprio solo ieri e l'altro ieri qua trovavamo i 16,17 gradi e oggi 22, quindi 5 gradi di differenza sono tanti. 20,7 a Villa Oneto, però sulla costa invece per assurdo le temperature non è che si siano alzate, è moltissimo perché sulla costa si fa sentire soprattutto il libeccio, che è un vento di mare ma un po' fresco e quindi tempera un po' forse l'innalzamento delle temperature che invece abbiamo visto sull'entroterra. 24 gradi a Santa Margherita, 24 gradi anche a Rapallo, 23,5 gradi a Chiavari, 23,2 gradi a Berissi-Lavagna e poi ancora temperatura di 23,7 gradi a Moneglia, 24,3 gradi a Genova-Nervi, 23,4 gradi a San Fruttuoso nel centro di Genova, Pra 23,5 gradi a Savona, 24 gradi ad Imperia, 21,3 gradi e a Ventimiglia 23,1 gradi anche alla Spezia. Quindi temperature elevate ma non elevatissime sulla costa, molto più alte rispetto a quelle dei giorni scorsi invece negli introterra. Abbiamo sentito parlare di un abbassamento di temperatura addirittura di 10 gradi, ecco non ci allarmiamo, non è che in Liguria andremo ai 15 gradi, ai 16 gradi, assolutamente no, anzi addirittura come temperature tutto sommato in Liguria non sentiremo questo cambiamento radicale rispetto agli ultimi giorni, forse sabato, domenica avremo 2-3 gradi in meno, ma soprattutto avremo aria da nord, quindi ci sarà una rotazione dei venti a partire da domani sera dai quadranti settentrionali e questo si porterà a un asciugamento del clima e quindi avremo sicuramente meno caldo perché ci sarà meno umido, ma dal punto di vista delle temperature non crolleranno come sento dire ultimamente, veramente a volte sentono dire cose davvero imprecise. Certo nel sud dove abbiamo avuto i 40 gradi ce ne avremo 30, ecco questa è un po' la situazione. Comunque andiamo un po', a volte quando l'informazione diventa disinformazione perché poi uno sente i titoli dei giornali radio, dei telegiornali e pensa di sapere tutto, in realtà 10 gradi in meno in alcune zone ma non in tutta Italia. Anche nelle pianure del nord questa settimana abbiamo avuto i 37-38 gradi, quindi eventualmente ne avremo 27-28, ecco quello è quello che si vuole dire in questi giorni, però in Liguria abbiamo avuto i 28-29 gradi, non ne avremo sicuramente 19, assolutamente. Avremo delle serate e delle notti più fresche, questo sì, però anche questa settimana non ci possiamo granchè lamentare tranne un po' di umido questa notte, ma poca cosa. Generatori di pace, questo è il titolo scelto da avvenire oggi sulla prima pagina del quotidiano della CEI, il Papa Lisbona, il mondo ha bisogno di un'Europa che sappia spegnere i focolai di guerra, va difesa la vita umana, a rischio con lo scarto degli anziani, i muri, le stragi, le culle vuote. Francesco è arrivato in Portogallo per la GMG, ieri abbiamo seguito proprio il suo arrivo a partire dalle 11 in diretta su Telepace 1, in serata all'incontro con 13 vittime degli abusi all'interno della Chiesa. Vediamo le immagini che ci sta facendo vedere Paolo Solari dalla regia, Paolo Solari che saluto e ringrazio, come saluto e ringrazio anche Cristina Oneto che si trova adesso in redazione e sta già lavorando per noi. E appunto queste immagini ci riportano alla giornata di ieri quando Papa Francesco è arrivato nell'aeroporto di Lisbona, poi accompagnato appunto verso i palazzi governativi, ha incontrato il Presidente, insomma tutte le forze politiche e sociali del Paese, vediamo appunto queste immagini, e poi anche i saluti, chiaramente a salve, e poi naturalmente ci sono stati gli incontri poi nel pomeriggio anche con il clero locale, con i vescovi, con i sacerdoti, con i religiosi. Quindi una giornata già molto intensa di quella di Papa Francesco che ha parlato di un'Europa che sappia spegnere i focolari di guerra, quindi che sia un po' da mediatrice tra i vari interessi nel mondo. Allora, lasciamo appunto il viaggio del Papa, andiamo ad altri argomenti, l'accordo sul grano potrebbe essere dietro l'angolo, Erdogan spinge Putin ma Mosca bombarda ancora i depositi. Più compiti, poco personale, il Viminale, cioè il Ministero degli Interni è in emergenza, 11.000 addetti andranno in pensione, decreto flussi a rischio. E poi ancora i 40 anni dell'arsenale della pace, per Santi Mattarella, artigiano di pace, e poi ancora 32 minori morti in sei mesi, non siamo un Paese per piccoli pedoni. Purtroppo gli incidenti stradali in questa estate si moltiplicano forse proprio ai danni dei pedoni, tra l'altro. Le regioni senza fondi, cantieri fermi, PNRR, appello al governo. E poi andiamo anche al settimanale Il Cittadino, in edicola da quest'oggi, l'estate nelle aree interne, tempo di feste patronali, religiosità popolare, patrimonio da rivalutare. E poi cammino sinodale, linea guida per la fase sapienziale. E appunto siamo partiti, GMG Lisbona 2023, e appunto vedete questa immagine di partenza dei ragazzi anche da Genova. Va bene, allora il Cittadino chiude per ferie, poi lo rivedremo in edicola alla fine dell'estate. E adesso invece andiamo, sì, sì, adesso andiamo invece a vedere, ecco qua, andiamo a vedere altri titoli, altri titoli dal secolo XIX di oggi, secolo XIX che titola Il salario minimo è inutile, intervista con la ministra del lavoro Calderone, il reddito di cittadinanza ha bruciato 25 miliardi di euro in Italia, il lavoro si trova. Totti poi in contraffitto, la Liguria perderà 5 milioni, ma, dice il presidente, non salteranno le opere, i soldi arriveranno da altre voci. E poi la Biper, appunto, fa un bilancio dei suoi conti, i conti volano con il rialzo dei tassi, utile di 700 milioni, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna che ha acquisito, come sappiamo, anche la Carige, la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. Tra camagli e terminalisti, intesa sull'unatantum, perse 17 mila giornate di lavoro. E poi al Politecnico di Milano le nuove idee proposte dai laureandi, dal Bobur all'ospedale in Uganda, progettare insieme a Renzo Piano. E poi ancora Mattarella e la Russa, quindi presidente della Repubblica e presidente del Senato, ammettono fu una strage neofascista, perché questa è la sentenza definitiva di un processo sul strage di Bologna. Ieri si è ricordato l'anniversario, il 43esimo anniversario di questa strage. E poi ancora, rigassificatore a Vado, c'è un patto, la Regione vuole l'intesa con 5 comuni per il rigassificatore. Portofino, il parco ricomincia da 3, quindi il Governo sposa l'idea della Regione Liguria, il parco limitato ai soli 3 comuni che ne fanno già parte, quindi Portofino, Santa Margherita e Camoglie, non più l'idea del vecchio Ministero dell'Ambiente che voleva un parco a 11 comuni. Poi riparliamo del delitto di Mahmoud, del giovane egiziano trovato privo di vita, il suo corpo martoriato e mutilato nelle acque di Santa Margherita Ligure. delitto di Mahmoud sulla mutilazione e l'ombra anche del racket, quindi non ci sarebbe soltanto una gelosia sul posto di lavoro come era stato detto, perché i rei confessi avevano detto così, però adesso vanno avanti chiaramente le indagini, perché è giusto che i magistrati e le forze di polizia non ci stiano alle dichiarazioni dei due. Chiaramente c'è qualcosa di ancora più grosso, forse dietro, e addirittura dietro l'omicidio ci potrebbe essere il racket per il PM Daniela Pischetola che conduce l'inchiesta a Genova. Il delitto è stato così brutale per la volontà di porre il proprio controllo su un gruppo di giovani egiziani e affermare a tutti l'impossibilità di dissentire. È stata una specie di quasi esecuzione anche, diciamo così, di monito a forse qualcun altro. Storia, il lago di Giacopeani si svuote, i pesci salvi con lo scivolo, appunto è stata compiuta la parte più delicata di questo intervento, cioè quello di svuotare completamente senza uccidere i pesci, che sono invece scivolati nel Pianzapeio che è appunto l'invaso subito sotto il lago Giacopeani. Segreti ricette dei piatti tipici cucinati alla Ligure, sapori nostrani. Questa è la prima pagina del secolo XIX e adesso andiamo appunto a vedere proprio questo di cui vi abbiamo appena parlato dalla prima pagina del secolo, ovvero appunto il travaso, o comunque lo svuotamento totale del lago di Giacopeani con un titolo che fa molto molto ridere, sì, beh, Carpe Diem, perché chiaramente è il detto latino, ma le carpe sono proprio i pesci da lago, quindi Carpe Diem, questo gioco di parola. e lo svuotamento spettacolare del lago artificiale Giacopeani tra le valle Sturla e Aveto, i pesci sono stati trasferiti grazie ad uno scivolo artificiale, qui vediamo alcune immagini di questo svuotamento, ma vediamole ancora meglio nel servizio realizzato ieri dalla nostra redazione. Assomiglia molto a un paesaggio lunare alla vista del lago di Giacopeani svuotato. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 13 di mercoledì con gli ultimi rilasci d'acqua dalla diga al lago Sapeglio e le delicate operazioni per salvare il numero più alto possibile di pesci. Attraverso lo scivolo che è stato approntato sono passate tante specie di pesci, soprattutto carpe, soprattutto persici reali, tante specie tipiche degli ambienti lacustri. Lo scivolo ha consentito di mantenere il benessere degli animali. La maggior parte degli animali è riuscita a passare in denne, ad entrare spontaneamente nel lago di Pianzapeno. I volontari della FIMA stimano il salvataggio di circa il 97% degli esemplari. Ad avere più difficoltà sono stati quelli più grandi che hanno faticato a passare dallo scarico. A Giacopeani erano presenti carpe anche di 25 kg. Oltre alle carpe e ai persici reali presenti anche trote, cavedani e scardole. Era dal 1999 che il lago non veniva svuotato totalmente. Un'operazione necessaria perché Tireno Power, la società che lo gestisce per la produzione di energia elettrica, deve fare un intervento per sistemare lo scarico di fondo che ha una perdita e non sarebbe stato possibile intervenire con l'acqua presente. Dopo vari tentativi negli anni scorsi di eseguire l'intervento monotentivo con acqua, quindi con subacqueo in condizioni molto estreme e con esiti non soddisfacenti, quest'anno abbiamo dovuto dare corso a questo svaso. Quindi nel corso di questa operazione verranno fatte anche altre attività come controlli proprio sulla struttura o indagini che anche per rimanere ottemperanti alla normativa vigente che negli anni si è venuto. Sarà anche monitorato lo stato generale dell'invaso. Salvo imprevisti, in ottobre si reinizierà a portare l'acqua a regime. Verso la fine dell'anno saranno riportati anche i pesci. Con le reti le prendiamo con le tramaglio diciamo vengono su dei pescatori professionisti del mare vengono su con le barche andiamo nel lago di sotto le prendiamo con le reti le portiamo su. Chiaro che non le prenderemo tutte ce ne rimarrà qualche d'uno. Dalla prossima settimana si può tornare a visitare il lago anche senza acqua però è vietato entrarci. C'è l'accordo tra l'ASL e i sindacati ora nascono sette sportelli sociali andiamo a leggere insieme dal secolo XI di oggi dedicati ad anziani e famiglie supporto per le pratiche amministrative e l'accoglienza delle istanze protocollo di intesa firmato dall'azienda sanitaria locale del Chiavarese con Spicci GL Film Cisle e Wilp Wil sette sportelli sociali dedicati in particolare ad anziani e loro familiari previsti dal protocollo di intesa firmato saranno attivati nelle sedi dei sindacati e del comprensorio per fornire informazioni sui servizi erogati dalla ASL andiamo invece a Lavagna barriere a Lavagna oltre 600 mila euro per eliminarle naturalmente eliminare le barriere che sono di intralcio alla circolazione e soprattutto delle persone con disabilità motoria ieri mattina primo incontro a Palazzo Franzoni l'Arinox assegna le borse di studio ai ragazzi più bravi cerimonia nello stabilimento di Riva Trigose qua vediamo l'amministratore delegato Massimiliano Sacco notizie in breve Santa Margherita Ligure il libro di Muratore Marino Muratore presenterà il suo romanzo La ragazza metà bianca e metà nera oggi alle 18 a Villa Durazzo e poi Donne nella scienza domani da Capurro appunto il titolo del libro è Donne nella scienza la lunga strada verso la patria verrà presentato alle 19 nella libreria Capurro di Recco andiamo ancora avanti ucciso e mutilato sospese le ricerche della testa la testa di Mahmood non si è ancora ritrovata dove sarà finita insomma nel mare quindi davvero anche impetuoso in questi ultimi giorni quindi potrebbe essere ovunque praticamente le condizioni del mare non hanno permesso agli inquirenti di immergersi realmente agli inquirenti proprio no perché non credo che un magistrato si immerga insomma vabbè riaperto a Chiaveri il barbershop di Corso Dante le mani di Mahmood erano state ritrovate alla foccia di Dentella e in una spiaggia vicina e qua purtroppo siamo ad un lutto che ha colpito la Valle Sturla stroncato da malore l'ex assessore Signaigo Franco Signaigo aveva 67 anni oggi l'ultimo saluto alle ore 15 nella chiesa di Soprallo Croce in Valle Sturla la famiglia chiede di devolvere le offerte la Croce Verde Chiavarese nella sezione di Borzonasca e appunto l'ex assessore lascia oltre alla figlia Alice anche la moglie Sonia e poi ancora Ponte di Alpepiana lavori nella fase cruciale ma slittano le chiusure domenica sarà sistemato il Guado appunto questo ponte che attraversa il torrente appunto in zona Alpepiana ne siamo in Valdaveto e dalla Valdaveto ci trasferiamo direttamente in Portogallo quindi un salto di centinaia e centinaia di chilometri perché è pronto il collegamento e come ogni mattina vediamo i nostri operatori già belli svegli nonostante le nottate che fanno perché chiaramente ci sono tante iniziative che terminano a tarda sera e poi la notte allora ci colleghiamo con il Portogallo e ci colleghiamo con il nostro direttore Don Fausto Brioni che oggi è proprio munito anche di microfono ufficiale buongiorno Don Fausto ciao Marco buongiorno sì ti sentiamo tutto a posto c'è un po' di ritardo naturalmente nelle comunicazioni però puoi andare vedo che hai un ospite insieme a te presentacelo grazie Marco allora sì sono qua con Mattia Novazzi che è uno dei responsabili del gruppo Chiavarese e che ci racconta la giornata di ieri come è andata questa giornata di GMG ma da ieri diciamo che è stata forse la prima giornata un po' più tipica da GMG al mattino siamo andati con tutti i ragazzi qua da Diocesi di Chiavari anche da Diocesi di Genova e una piccola rappresentanza di Albenga in una parrocchia qua vicino per la Catechese di vivere di fretta ma deve essere una fretta buona anche oggi e domani dei momenti di incontro proposta preghiera in cui un po' sviceleremo alcuni temi e poi vabbè diciamo soliti deliri per il pranzo arrivare a Lisbona che qua con tanta gente muoversi in gruppo non è mai facile e poi niente siamo arrivati nel tardo pomeriggio alla festa degli italiani è stato un bel momento festa casino abbiamo ascoltato delle belle testimonianze di diverse persone poi c'è la Sara assieme incontrata tanta gente foto è stato un bel momento e poi vabbè siamo tornati a casa con qualcuno con qualche difficoltà qualcuno un po' meno però ce l'abbiamo fatta gli ultimi gruppi sono tornati alla mattina presto potremmo dire direi di sì direi di sì io ero già a dormire però sì qualcuno mi ha detto che è arrivato un po' tardi stanotte però anche questo fa parte della GMG ma spero si siano divertiti anche loro abbiamo sentito dalle notizie che ci hai dato stamattina sul tempo in Liguria che è nuvoloso mentre qua abbiamo una giornata splendida radiosa con il solito vento di Lisbona è piuttosto fredda stamattina sì è vero c'è freddo però dai c'è il sole è la prima mattina che ci svegliamo col sole altrimenti c'era sempre nuvole era un po' più triste il risveglio oggi col sole è meglio ieri c'è stato anche l'incontro con il nostro vescovo che è arrivato nel pomeriggio e che questa mattina avremo per la messa perché il programma della giornata è quale sappiamo che il Papa tra poco incontrerà gli universitari all'università cattolica qua a Lisbona e per noi quale sarà il programma della giornata oggi di nuovo avremo un momento della catechesi al mattino quindi un po' di incontro preghiera concluderemo con la messa poi ci sposteremo verso Lisbona dove ci sarà questo incontro col Papa mi sembra le 5-5 e mezza del pomeriggio quindi ci troveremo nel parco dove qualche giorno fa abbiamo fatto la messa e di nuovo tutti assieme con tutti i ragazzi di tutto il mondo quindi di nuovo una grande calca e ressa ma nel senso bella ecco e per incontrare il Papa ci sarà un momento tutti assieme e quindi quest'oggi è il programma della nostra giornata come vedete i ragazzi si stanno svegliando qualcuno più coraggioso si è avventurato nella doccia di prima mattina e le facce sono tutte ancora piuttosto assonnate vediamo Don Alessandro che passa mentre fa colazione ed è seccato dall'essere ripreso così e vorrei ricordare anche che questo pomeriggio l'incontro sarà dove si è svolta la celebrazione la messa la prima messa che ci ha visto riuniti tutti insieme ma ci sarà molta più gente oggi beh sicuramente diciamo che i momenti col Papa sono sempre un po' più quelli suggestivi dove la gente magari ha piacere a partecipare quindi già l'altro giorno c'era tantissima gente era incredibile la folla mi ha colpito molto durante la messa quando hanno aperto gli ombrelli i ministri dell'eucaristia che pian piano hanno iniziato a spuntare questi ombrelli e da un momento ce ne vedevi 4-5 poi c'era tutta questa spianata piena però già sembrano tanti gli ombrelli questo vuol dire che la gente era veramente tanta oggi credo che ce ne sarà ancora di più e sarà bello sarà bello sicuramente sì ecco ieri mattina c'è stato il momento che noi chiamiamo di catechesi Rise Up puoi raccontarci puoi raccontare ai nostri telespettatori come si è svolto sì diciamo che ci siamo ritrovati è stato il primo momento assieme quindi c'è stato un po' di così un giochino per conoscersi tra le varie diocesi tra le varie persone e poi abbiamo fatto un breve momento di preghiera cantando recitando un salmo e poi c'è stato questo momento in cui ci siamo divisi in gruppetti più o meno di 4 persone per affrontare un po' una tematica che era quella sul tempo sul proprio tempo su come impegniamo il nostro tempo il nostro tempo se doniamo del tempo agli altri appunto cercare di capire un po' poi anche parlando del tempo come orientiamo le nostre giornate che senso gli vogliamo dare poi c'è stata la possibilità di fare delle domande a un vescovo domande anche dalle più banali che in realtà poi banali non erano perché erano cariche di significato però proprio qualunque cosa chiedere dove lui ci ha un po' riprovato a rispondere e poi abbiamo concluso con la messa tutti assieme quindi questo è stato un po' il programma della mattinata di ieri che probabilmente poi si ripeterà anche oggi Bene Mattia allora ti lascio come vedete c'è un pochino di vita che si muove i ragazzi stanno preparandosi per la colazione la colazione si svolge qua all'aperto e e dà la possibilità a tutti così di avere un tempo più dilatato per poter fare il primo pasto della giornata qua vediamo Don Stefano buongiorno Don Stefano buondia e Giovanni Giovanni da dove arrivi Giovanni? dalle parrocchie di Don Stefano quindi tutte le parrocchie di Don Stefano no dai in realtà non sono neanche un suo parrocchiano comunque dalla comunità di Don Stefano allora vi vediamo infredoliti e un po' sonnati ancora e beh siamo svegliati adesso per forza Giovanni come è stata la festa degli italiani ieri sera? è stato un momento veramente magico cioè proprio non mi aspettavo assolutamente questa roba siamo arrivati c'erano bandieri ovunque gente che saltava quindi è stato veramente tutto veramente fantastico sì 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 proprio tutti quanti molto partecipi poi anche i vari incontri le varie persone che hanno dato la loro testimonianza tutte quante molto interessanti e molto molto appunto anche utili per proseguire diciamo anche questa GMG al meglio ieri sera tra le varie testimonianze di cui ci parlava Giovanni c'è stata anche quella di Don Ciotti ci ricordi qualcosa Don Stefano? Ma ora sicuramente chiedeva di essere responsabili della propria vita del proprio futuro di fare scelte di farle buone poi mi ricordo anche un punto in cui diceva anche di imparare un po' ad ascoltare anche le persone buone che si incontrano e così di imparare perché affidarsi delle persone buone e poi dava due riferimenti il Vangelo e la? e la Costituzione parlava gli italiani ricordiamo Don Ciotti sì sì è stato è stato bello anche questo poi sicuramente anche per i ragazzi era bello saltare ballare c'era moltissima energia in quella spianata ancora una cosa Stefano tu hai fatto la prima parte anche della GMG puoi raccontare ancora una volta ai nostri telespettatori come si è svolta? Noi siamo stati una settimana a Chaves che è una città insomma più o meno 30.000 40.000 abitanti al nord del Portogallo al confine con la Spagna e siamo stati ospitati dalle famiglie e abbiamo passato le giornate con le famiglie con i volontari è stata una settimana molto bella comunque in cui siamo riusciti a legarci a creare delle amicizie anche adesso che siamo qui a Lisbona ci si sente ci si iscrive dove siete si cerca sempre di raggiungerci poi per ora non ce l'abbiamo fatta però ci proveremo ancora Marco cosa dici io? Vedo l'orario siamo abbiamo ancora qualche momento vuoi chiedermi qualcosa? Sì appunto sono giornate giornate molto intense e volevo sapere anche dai tuoi ospiti l'attesa soprattutto dell'incontro con il Papa che inizierà proprio oggi con la cerimonia di accoglienza nel pomeriggio Allora mi chiede Marco qual è l'attesa dell'incontro col Papa? Mai delle sue parole nel senso che sicuramente è sempre semplice e preciso e riesce a farsi capire ad arrivare in quello che vuole per cui aspetto solo di ascoltarlo e fidarmi di lui Giovanni come va con i tuoi amici nel tuo ricovero notturno? Fino ad ora tutto molto bene sia con i miei amici che già conoscevo con i quali sto cercando di parlare il meno possibile perché tanto poi li posso vedere quando voglio quindi sto facendo conoscenze mi metto a ballare sono abbastanza socievole quindi non ho problemi a inserirmi in gruppi a caso fare amicizie parlare poi anche con gli stranieri quando si va in giro tutto molto molto spontaneo belle conversazioni però con gli italiani è più facile perché si ci capisce più facilmente sono tutti molto molto simpatici aperti fino ad ora ecco la lingua è da una parte un ostacolo e da un'altra un'occasione qua sì questo è vero perché sì 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 dipende anche da chi incontri poi si ceracava col mimo al massimo quindi la lingua si trovano nuovi linguaggi sì 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 si ci riesce a parlare anche senza senza sapere la stessa lingua allora vi lasciamo alla colazione che oggi è a base di ma oggi come ieri come l'altro ieri è pane nutella cioccolato pane un frutto pane crema al cioccolato e barretta energetica allora lasciando gli amici alla loro colazione Marco io ti restituerei la linea ricordando che avremo diversi collegamenti quest'oggi tra essi il più importante nel pomeriggio per la diretta dell'incontro dei giovani il primo incontro dei giovani con il Papa accolto la reciproca accoglienza qua alla GMG a Lisbona bene grazie grazie Don Fausto salutaci tanto anche Maurizio che abbiamo visto nelle immagini Maurizio Garrefa e anche Giginio Luigi Canu che sicuramente è la telecamera eccolo qui un pochino un pochino raffreddato Maurizio mi pare no raffreddato buon dia Marco buon dia no non vuole intimorire ha freddo però c'è una certa rietta oceanica però serve per riprendersi festa di ieri però il fisico è ancora con le maniche corte lo vedo salutiamo noi il Papa l'abbiamo già visto ieri ma sì è stato un incontro fortuito mentre raggiungevamo Augest dove c'è stata la festa degli italiani ci è passato insomma di fianco e c'erano tutte le strade piene di giochi che poi ci dà il segno anche dalla presenza di tanti ragazzi che non sono quelli come dire ufficialmente contabilizzati nella presenza tutta la città tutta Lisbona è piena di ragazzi in ogni angolo e ieri ci siamo accorti insomma mentre passavamo per strada vabbè è stato un momento che ha emozionato soprattutto Luigi che è dietro la telecamera e infatti adesso vedi la telecamera trema perché era molto contento bene con questo è tutto da Lisbona un saluto a Chiaveri e tutta la Liguria grazie Don Fausto grazie a Maurizio che resista pure con le maniche corte nonostante le temperature abbiamo visto appunto che gli altri hanno tutti la giacca mentre lui è ancora bello sportivo e salutiamo anche Luigi Cano naturalmente nel corso dei prossimi appuntamenti informativi della giornata quindi TG delle 12.45 il DC delle 19.15 daremo altre immagini altre informazioni ringraziamo anche Paolo Solari che durante il servizio ci ha fatto vedere le immagini dei punti salienti dei momenti importanti della giornata di ieri come diceva Don Fausto questa mattina la nostra programmazione viene stravolta naturalmente come è successo anche ieri perché alle 10 alle 10 ci collegheremo già con il Portogallo per trasmettere l'incontro del Papa con gli universitari portoghesi poi ancora altri incontri con i giovani di una scuola e infine appunto alle 12.30 terminerà questo primo collegamento con il Portogallo quindi alle 12.45 ci sarà il nostro notiziario poi in serata invece come dicevamo prima l'appuntamento con la cerimonia di accoglienza dei giovani verso il Papa è la prima volta che il Papa incontra i giovani della GMG ufficialmente appunto e ci sarà il primo grande grande raduno proprio nel Parco Edoardo VII dove pochi giorni fa è stata celebrata la messa e alle 18.15 quindi collegamento su Telepace 1 al canale 12 e terminerà questo collegamento intorno alle 20.15 quindi la prima edizione del nostro TG appunto del G della Sera alle 19.15 andrà in onda non su Telepace 1 ma su Telepace 2 al canale 85 e su Telepace News al canale 78 quindi questa sera appunto ci sarà l'incontro con il Papa il primo grande incontro perché poi domani ci sarà la Via Crucis sabato la veglia e domenica la messa conclusiva quindi praticamente quattro giorni con Papa Francesco e i giovani della GMG credo che in tutti noi ci sia anche un po' di desiderio vediamo queste immagini abbiamo il desiderio di esserci di essere lì e di vivere da protagonisti questo evento questa manifestazione non è così per tutti soprattutto per me per Paolo Solari e Cristino Neto che ormai giovani lo siamo stati ma una trentina di anni fa e quindi adesso li possiamo vedere attraverso i nostri schermi e tentiamo appunto di fare un servizio sempre più così diciamo dedicato anche a questo evento che terminerà appunto domenica andando invece ai giovani che pensano diciamo ad altre cose soprattutto a divertirsi ballando con le cuffie in testa l'appuntamento è per domani a Sestri Levante con la Silent Disco verso il sold out cioè verso il tutto esaurito attesa la carica dei 5.000 in Baia del silenzio a Sestri Levante ordinanza per la sicurezza vietati gli alcolici viabilità modificata queste sono le principali iniziative a Lavagna invece iniziano le svendite di fine estate quattro palanche e via le svendite appunto degli sbarassi mentre invece a Lavagna nel fine settimana è atteso il Basking Contest cioè la gara tra i musicisti di strada questi sono i finalisti erano 12 sono rimasti soltanto in 6 e si daranno gara si daranno battaglie diciamo così a suono di note sabato sera in piazza Marconi alle ore 21 e il vincitore potrà esibirsi al prestigioso Ferrara Baskers Festival appunto sarà una serata di grande musica a Lavagna sabato sera mentre invece prosegue sempre a Lavagna Festival Art ecco la mia testa tra le nuvole l'opera è stata dipinta sulla facciata della palestra alla scafa a Lavagna rimarrà appunto per sempre da questa settimana dedicata all'arte a Lavagna e poi invece sempre a Lavagna in arrivo anche i docenti di prestigio per Music Campus Sodoma si dirige la masterclass proposta dalla banda di Lavagna a questo punto gli altri appuntamenti della giornata li vediamo nella nostra consueta scheda dell'agenda di Telepace Gli appuntamenti in programma per giovedì 3 agosto alle 8 e 30 da piazza dei pescatori di Chiava riparte una tappa di Roberto Lavezzo il ciclista in rosso che sta facendo il giro delle coste italiane per aiutare l'associazione nazionale dei malati affetti da teleangiectasi emorragica ereditaria a Lavagna prosegue il Festival Art in piazza della libertà dalle 18 alle 22 c'è la mostra di disegni di Giacomo De Martini intitolata Fuori dal mondo per la rassegna estate spettacolo 2023 al porto antico di Genova c'è lo spettacolo del comico Max Angioni intitolato Miracolato inizio ore 21 notturni in plein air a Palazzo Ducale di Genova alle 21 nel cortile maggiore il pianista Costantino Catena esegue musiche di Chopin Poulenc Debussy e Liszt inizio alle 21 la compagnia di Evasi è in scena in piazza Cavura Levanto con la locandiera di Carlo Goldoni inizio alle 21 e 30 per il 60 festival internazionale di musica da camera c'è il concerto di Irene Duval e Gioni Anilia Scadescia al violino Sao Sulez Le Riviere e Luba Tunicliff alla viola Steve Easterlis e Vashti Hunter al violoncello alle 21 e 30 nella chiesa di San Michele a Diano Aretino A Caviborgo in Lavagna infine c'è il concerto di Riccardo Bianchi Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto per la rassegna al Jersey Wine inizio alle 21 e 30 Ancora dalle pagine del secolo XIX il cantiere infinito penalizza le attività di Rapallo contributo in arrivo che verrà preso dal Pris cos'è il Pris? sono i programmi regionali di intervento strategico a cui si possono avere importi diciamo così dare ad alcune attività private proprio che sono state danneggiate da lavori che sono però strategici per il territorio come alla copertura del torrente San Francesco a Rapallo però c'è anche una buona notizia di vieto di balnazione revocato a Rapallo nel tratto di mare tra il Castello e via Venaggi riprende l'attività del Cor il Consorzio Operatori Rapallo attesi il nuovo direttivo e l'agenda degli eventi mentre invece appunto sempre a Rapallo torna anche il Tigullio Expo mostre, musica e premi con l'associazione Il Cuore da domani a lunedì la manifestazione che guarda soprattutto alla solidarietà e in Val Fontanabuona si attende la nuova edizione della storica Fiera Expo Fontanabuona che però quest'anno è stata slittata al mese di settembre l'appuntamento domenica sarà con la tradizionale processione di barche con il Dragun a Camogli Stella Maris la magia dei lumini niente alcol e vetro multe fino a 700 euro però soprattutto è attesa questa grande processione di barche verso la Stella Maris di Punta Chiappa e poi ancora Comune Teatro visita di Toti oggi pomeriggio l'incontro con il sindaco sempre a Camogli adesso andiamo a dare le notizie sul meteo perché abbiamo visto questo inizio mattinata davvero nuvolosa qua sul Tiguglio con qualche precipitazione sparsa allora la situazione proseguirà purtroppo nella giornata di oggi anche quella di domani con tempo variabilmente perturbato quindi avremo variabilità nuvolosità soprattutto sul Levante soprattutto qua da noi nel Tiguglio verso la Spezia con la possibilità anche di qualche precipitazione nel corso del pomeriggio non sono escluse invece delle schiarite soprattutto sul Ponente localmente anche sul resto della regione però sempre con tante nuvole intorno per quanto riguarda i venti oggi forti di Libecio a largo da sud-est sotto costa con rinforzi nelle zone interne il mare è generalmente molto mosso le temperature rimangono più o meno stazionate sui valori degli giorni scorsi quindi vacillano tra i 25 e i 29 gradi 29 gradi soprattutto sull'estremo Ponente perché saranno appunto quelle le zone più soleggiate di oggi domani domani allora passa questa perturbazione sull'Italia del Nord che porterà precipitazioni molto intense soprattutto sul Triveneto qua avremo soltanto un interessamento marginale soprattutto sulle zone interne a ridosso con il Piemonte qua si potranno verificare i maggiori temporali però non è esclusa pioggia un po' su tutta la regione anche se poi il Tiguglio e il Levante resteranno un pochino più protetti proprio dall'area di Libeccio che continua a soffiare molto forte e con venti appunto che ruoteranno soltanto dalla sera a nord il mare domani sarà agitato le temperature in generale calo sabato invece andiamo verso un miglioramento così terminiamo in maniera bella positiva sabato domenica avremo due belle giornate quindi non vi preoccupare il weekend non è assolutamente a rischio e non credete a quelli che vi dicono che bisognerà mettersi le giacche e i piumini perché assolutamente non avremo temperature basse avremo temperature giuste di una vecchia estate insomma che ci ricordiamo noi anziani ma attenzione perché vi ripeto la programmazione di oggi viene un po' stravolta dalla visita del Papa quindi oggi a partire dalle 10 su Telepace 1 collegamento con il Portogallo quindi la Santa Messa delle 10.30 verrà trasmessa da Telepace 2 sul canale 85 l'informazione invece è garantita alle 12.45 perché termina il collegamento intorno alle 12.30 quindi il Tg andrà in onda regolarmente io ringrazio Paolo Solari che ha curato la parte tecnica e Cristina Oneto dalla redazione e a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata ci rivediamo domani mattina grazie a tutti grazie a tutti